La costruzione del nuovo palazzo della regione nell'area di Risulta a Pescara desta ancora troppe incertezze e il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, presenta un'alternativa progettuale che possa evitare la cementificazione dell'area togliendo parcheggi e lasciando dismessi alcuni edifici pubblici. Il Movimento 5 Stelle propone un progetto alternativo alla costruzione del nuovo palazzo della regione nell'area di Risulta di Pescara. Sì esattamente, oggi presentiamo un progetto alternativo che prevede il consumo di suolo zero perché sostanzialmente riguarda la ristrutturazione e l'ampliamento delle volumetrie già esistenti in Piazza Unione. Risolve quindi il problema sia della messa a disposizione della sede della Camera di Commercio che come abbiamo saputo è stata messa nel piano delle alienazioni perché non più sostenibile economicamente per la proprietà che ormai ha trasferito tutta la propria sede nella sede di Chietiscalo e il fatto di riuscire con una ristrutturazione e un ampliamento anche a trasferire le volumetrie oggi esistenti in via Raffaello e in via Lebovio che quindi sono zone, aree che vengono restituite libere alla città. Questa è una proposta in cui quindi non si consuma suolo, non si occupa l'area di Risulta che sappiamo è un'area che deve essere dedicata completamente a parco, si risolve il problema delle strutture oggi presenti ed abbandonate nella zona di via Lebovio e di via Raffaello che devono essere aree che come abbiamo già detto il sindaco doveva pretendere che fossero aree demolite e restituite alla città e si risolve anche il problema della sede della Camera di Commercio che potrebbe purtroppo finire invece in mani private. Quindi un luogo pubblico, una centralità pubblica ed un grande polo amministrativo che secondo noi riesce a risolvere tutte le problematiche poste in essere doveva essere la vera alternativa. La nostra proposta è quella di un'alternativa esistente che c'è e che purtroppo il centro-destra non ha voluto nemmeno verificare.